buongiorno a tutti sono Pier Silvio Dallò e io ci sto e voi? buongiorno siamo Dario e Silvia di Dallò wine siamo qui per presentare ufficialmente il nostro progetto di collaborazione con la città della speranza per aiutare i bambini noi ci stiamo e voi? Dallò Dario ha deciso di collaborare con l'artista Massimo Zanetti per creare una bottiglia che è questa dentro un tronco incavato sopra alla sinistra ci sono i vigneti cioè le radici del progetto in mezzo c'è ponte di Vialto che simboleggia l'arte che trasporta il progetto dalla montagna alla città della speranza sono Roberto Cipresso e anch'io abbraccio e applauda questa bellissima iniziativa sono Massimo Zanetti artista e poeta e questo è il quadro che io dono per la raccolta fondi città della speranza quadro e poi ripreso nell'etichetta del vino io ci sto sono Pan Giuseppe assessore dell'agricoltura della regione Veneto io ci sto Gianrico Esposito direttore hotel Danieli Venezia io ci sto sono Vita e anch'io ci sto sono l'avvocato Luca Favini dello studio legale di Edini Longo io ci sto sono Gianluca Versace conduttore televisivo giornalista scrittore io ci sto sono Ilaria ed anch'io ci sto sono Mauro Meneghetti restaurant manager del ristorante Tramontecchi a Laimo io ci sto sono Simona Pontu caporedatrice di Gotha News e ufficio stampa io ci sto Anna Paola Xodo scrittrice fashion designer e modella io ci sto ciao sono Francesco Corso sono sindaco del comune di Baone un comune dei Colli Ugani io ci sto Anche noi della Popcorner Band ci stiamo Sono Andrea Marcato direttore di Verdea Nord Est e anch'io ci sto Sono Vittorio di Venezia Gustosa e anch'io ci sto Sono Antonio Agostini di Venezia Gustosa e io ci sto Sono Maria Cavallaro sono la proprietaria della società agricola Cadei Faggi di Faedis Udine Anch'io ci sto con Dallò Dario Sono Maria Ceschini sindaco del comune di Cavedine io ci sto Carla Mura artista io ci sto Sono Umberto Marsilio collaboro con Rai Storia e io ci sto Sono Amanda Reina sommelier e mi occupo di comunicazione enogastronomica Io ci sto Sono Anna e anch'io ci sto Sono Federico e anch'io ci sto Sono Gianluca Bisol e anch'io sono d'accordo bellissima idea Lorenzo Bragato direttore commerciale inchiostro bianco noi ci stiamo Lara Tonello scrittrice io ci sto Sono Ulisse Bolotto sindaco di Nanto anch'io ci sto per l'azienda Dallò Sono Anna Smeu e io ci sto Io mi chiamo Katia San Nicolò e io ci sto Sono Rita Sabino sono un'artista e anch'io ci sto Ciao sono Davide Meneghini ossidore comunale di Paolo io ci sto Sono Daniele Galler di Cantina Bolzano anch'io ci sto Sono Maria Grazia anch'io ci sto Ciao sono Massimo Cavazzana sindaco di Tribano io ci sto Sono Anna Cardin e anche io ci sto Ciao sono Beunida e io ci sto guardate che bella Venezia Grazie mille noi ci siamo Alla fine di questa raccolta fondi durante una giornata che si svolgerà qui all'interno della nostra cantina verrà fatta un'estrazione ed il fortunato donatore si aggiudicherà l'originale tela di Massimo Zanetti e il nostro primo magno dal low wine Grazie mille noi ci sto Grazie mille noi ci sto